e bentornati su fortnite oggi c'è anche qua georgina saluta ciao 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 siamo pronti a giocare di nuovo a fortnite zero costruzione ragazzi season 3 abbiamo abbandonato la season 2 perché naturalmente è finita e quindi cominceremo a giocare la cosa qui vero papi teletrasportiamoci il batti 5 teletrasportiamoci al gioco 3 2 1 via eccoci qua ora vediamo se ci possiamo andare tanto che aspettiamo che carichi la partita c'è qualcuno prendiamo qualche arma papi ci prepariamo ci prepariamo che mira brutta che abbiamo e l'abbiamo preso eccoci qua sul nostro mongo pullman benvenuti sul nostro mongo pullman che bello che è tutto colorato ci lanciamo 3 2 1 via ci lanciamo ci lanciamo ci ho fatto male andiamo lì ci sono i nostri due amici siamo in squadra papà andiamo dove sono anche loro come si chiamano e non lo so papi come si chiamano hai visto uno è rosa e uno è viola andiamo dobbiamo raggiungervi papà forza ciao hai visto uno si è già collegato si bravissimo tu sei tu sei tu sei un adulto adulto si eccomi qua ah vabbè io sono un amico ah che sicc'è sono morto sono morto con il player si ma che dove hai? si a quest'ora ecco un amico dove è il player? aspetta aspetta intanto devo andare a cercare delle armi perché ancora non ho preso niente voi intanto ammazzate tutti ho quasi finito aspetta finito hai deciso devo prendere ho prendere prendere per il player prendere pari 9 eh bravissimo oh 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 bravissimo 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 che c'è papi? come ti chiami tu? bravissimo bravissimo da sola e allora aspetta andiamo a procedere andiamo a procedere ti seguo dietro e allora e allora aspetta vuoi che si facevano così? guarda papi ok dai seguiamolo saliamo 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 a sei giù? si eccolo sei questo eccolo qua no papà ecco qua io so bello dove sei? dove sei? dove sei? mi dice di dove? a dove? papà era qui era qui ok andiamo a prendere oh chi è che spara? ah sei tu che sei entriamo qua sotto dove è l'altro nostro compagno? ehi vieni arrivo un cecchino un cecchino un cecchino dov'è il cecchino? dov'è? un cecchino un cecchino attento che è questo posso te lo lasciato ma è un cecchino a zero volti che è chiuso di marcia ah hai provato un cecchino però è a zero volti eh allora questo ne prego te ne fai ben poco dove è il tuo nostro compagno? è già di là non ho reviso cosa passa no, una ne ho aperta e qua, vado a mano dove c'è tutta la scelta? come? lo scudo ce l'ho al 50% lo scudo vieni che ce l'ho sentitrando lo scudone e dove sei? aspetta qua aspetta che stai arrivando ma quello non mi fa cagare qua 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 e questo vuol dire 50 le rivolte quella è quella grande? e questo cecchino qua è vuoto? dove sei? eccola qua grazie beviamo ragazzi intanto io sto registrando quando sono no youtuber sarai nel video così almeno lo sai hai capito caro il mio compagno? bello andiamo vediamo qua se c'è qualcuno ma ma normale normalmente parliamo di calcio però visto che però il calcio non non ce n'è ci diamo ai videogiochi non è senso che youtuber sei perchè io non ho questi youtuber di Fortnite no sono sono nuovo nuovo su Fortnite non ho mai non ho mai giocato sinceramente che livello sei? ah due due sono è la prima settimana che gioco guarda e ho iniziato a registrare così tanto per divertimento il mio canale si chiama Peter Pan Bianconero se mai ci vuoi andare così magari ti vedi anche questa partita dove sei? eh sì diglielo papi è vero? giusto allora dove sei? qui sei qui c'è una aspetta che mi sono fatto male lanciandomi giù la tua arma preferita non ha? eh ancora non le conosco comunque il cecchino mi piace il cecchino è la mia arma preferita mi piace nascondermi perchè non sono tanto bravo nel nel corpo al corpo non ti piace a me? non ti piace a me? no io no ma guida la macchina? no io sparo ah ma che macchina? se c'è qualcuno da sparare se c'è qualcuno da sparare guida l'altro nostro compagno vai un bel volo un bel volo è un ah no non so io dovevo fare il volo a farlo sei uscito? dai ah eh ragazzi intanto siamo intanto siamo dove siamo? ok andiamo nella safe zone bene 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 andiamo nella safe zone spari vicino a noi scendi scendi i quali qua andiamo 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 a prenderli andiamo 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 con lupo con lupo sei nasce ecco aspetta che me lo faccio tu eh aspetta che me lo prendo me lo prendo uno pure io chi è che spara? no chi è morto è ferito è ferito non è morto no mi hanno ucciso 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 io uno l'ho ucciso ragazzi no 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 mi hanno ucciso anche me mi hanno ucciso anche me ragazzi è finita questa partita siamo arrivati al tredicesimo posto ci hanno letteralmente devastati uno eravamo riusciti a ucciderlo ovunque siamo divertiti eh cinque kill per me io io ho fatto un assist perchè alla fine non ho ucciso nessuno colpi alla testa uno ma non l'ho ucciso ti hanno ucciso che ci ha ucciso ma che ci ha ucciso di menino ancora e non mi ha ucciso mi ha ucciso un po' che trovavo l'ultimo che avevano di te qua insieme, a questa me l'avevano tutti sdraignati Attenzione, attenzione Spangiate, mangiati due, due Ma questi sono in quattro? Sì, sono in quattro E' da questo che ci è venuta difficile E noi quanti siamo? Noi eravamo in tre Eravamo in quattro, però uno non c'era Eh, eravamo in tre Quanti anni c'hai? 38 amico mio, sono grandicello 9 anni hai mamma mia che bello E' il bello di questo gioco che puoi divertirti con i ragazzini Bello, davvero bello Un attimo Allora, questa volta andiamo a cercare di uccidere qualcuno anziché passeggiare con la macchina Vediamo se troviamo qualche, qualche altro tipo di giocatore che ci aiuta a magari vincere Vediamo Quasi pronti 13 secondi e ripartiamo ragazzi Mamma mia che macello Che macello che c'è qua dentro Siamo in 100 praticamente Vediamo Vediamo dove c'è un po' più di giocatore Oh che bello sto cecchino E rieccoci sul nostro mongo pullman La fusione tra mongolfiera e il pulmino della scuola tutto giallo Dove ci lanciamo A Pinnacoli A Pinnacoli Dov'è? Ti sei già lanciato? Sì sì E allora ti seguo Via Ti seguo, ti seguo, ti seguo Abbiamo altri due, altri due Compagni che sicuramente non ci seguiranno Eccoli, eccoli Andiamo a Pinnacoli Andiamo a prendere qualche Pinnata Ma tu hai già delle armi in possesso oppure scendi vuoto? Ok, ecco Ci sei? Ci sei Ok Sì la canna della pesca Ma perché non trovo mai delle armi io? Io non ho già due Ok, oh, pumpazza Aspetta che hai fatto la kill Però questo qua è scosso Quanto vuole Ah ma quello è il robot Ah va in culo, mi sono messo contro il bot Chi è che mi spara? Disgraziato poliziotto Ah mi hanno ferito, sono quasi morto Aiuto Ah, sono tutta altra parte Ah Sono stato eliminato da un bot ragazzi Sono stato eliminato da un bot Oda? Era un bot Anna è la pupa Attenzione Eh Eliminato da un bot Ma come si fa? A che stai osservando? E mo? La già fa? A che stai osservando quello con la screen blu? Aspetta, vediamo se riesco Ma che c'è il tuo ruolo? Tu quale sei? Aspetta Sei... Ah qua, qua Ti stavo osservando Che è qua? Hai ucciso? Uno, uno Ce ne mancano due Eh, sto osservando te Oh, eccolo qua Mi sa che sei morto No, tanto c'è il mio amico che può curare Dov'è? 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 All'altra parte di città Pum Tu stai sempre osservando me? Sì Dai che ce la fai Dai che ce la fai Ragazzi, ce la fa secondo voi? Ce la fa, ce la fa Non ce la fa più Posizione 26 Stavo dicendo così Non ci manca mai In questo caso E va bene ragazzi Per questo video finisce qui Io vi saluto Vi invito a mettere un bel like A questo video se vi è piaciuto Iscrivervi al canale E attivare la campanellina Per non perdere i prossimi video Detto questo Ciao a io